RISING TEAM Il progetto è stato una collaborazione con Lotus e RML Group. L'avanzata carrozzeria in materiale composito contiene il peso in 1300 kg ed è abbinata al collaudato motore Toyota V6 Turbo da 3,5 litri per 400 CV con un'aerodinamica rispondente ai regolamenti GT4 ottimizzata rispetto all'avanzato design esterno delle mira stradali. Gli ordinativi per i mira GT4 che costa 193.000 euro tasse e consegna escluse sono stati aperti il giorno della presentazione registrando un sold out che ha subito esaurito le disponibilità delle vetture per il primo anno. Ma Lotus mira ad aumentare la produzione per il 2023 in linea con la prevista e forte domanda a livello mondiale.